Ciao Bivis e benvenuti sul nostro canale YouTube. Il mio nome è Carmi e siamo qui riuniti oggi con una nuova puntata di Fondi di Caffè. Fondi di Caffè è la nostra rubrica dove trattiamo tematiche scomode per la società e spesso anche tabù. E la storia di oggi è una storia che sinceramente ho scoperto da molto poco. Se vi ricordate un paio di settimane fa vi ho parlato della povera Kellyanne Bates e della sua storia di questa ragazza inglese e di come l'uomo che lei aveva incontrato l'ho trovato ripugnante, l'ho trovato veramente disgustoso. Ecco, ho deciso poi di farmi del male personalmente perché sono andato su Google e ho cercato altri uomini e soprattutto uomini detti crudeli qui in Inghilterra. Volevo proprio delle storie, volevo capire se appunto l'uomo che Kellyanne Bates aveva incontrato era il peggiore di sempre oppure c'era di peggio. E a mia sfortuna ho scoperto che si può andare ancora più in basso, si può ancora trovare di peggio. E infatti oggi vorrei parlarvi di Mick, Mick Pilplot, che è quest'uomo definito il padre peggiore d'Inghilterra. E credetemi, questa storia è assolutamente altalenante. Quando veramente pensiamo che siamo al limite, la storia deve ancora iniziare. Perché Mick era veramente egoista, era egocentrico, sognava il potere. E la cosa che adorava di più era appunto picchiare le donne. Picchiare le donne che lui prometteva di amare, prometteva di salvare. Ancora una volta questa idea del salvatore dell'eroe che in realtà abusa il potere e fa solo del male. Io direi di iniziare subitissimo perché abbiamo davvero una storia lunga e tanto da dire. Mick Pilplot nasce nel 1956 qui in Inghilterra a Derbyshire, odette anche Derby. Non sappiamo moltissimo di lui e sulla sua infanzia, ma quello che è riportato è che Mick era un bambino, un adolescente molto violento. Aveva appunto le mani che gli si alzavano velocemente, soffriva appunto di attacchi di rabbia e una cosa che la famiglia decide di fare, di incitarlo, è di arrolarsi all'esercito. Infatti lui appena finisce la scuola, all'età di 19 anni, forse è la cosa peggiore. Perché lo so che all'epoca l'idea di andare all'esercito era che ti mettevano sotto leva, imparavi l'educazione, imparavi il comportamento, però purtroppo non credo sia stata l'idea geniale. Devo anche ammettere che ricordiamoci che negli anni 50, 60, 70 fare terapia non era poi così comune. Una cosa però importantissima da sapere è che Mick, prima appunto di arrolarsi nell'esercito, incontra una ragazza. Questa ragazza è giovanissima, ha solo 15 anni, si chiama Kim, Kim Hill. Lei è 15enne, lui 19enne. Già lì potete già capire che tipo di interesse Mick ha. Gli piace questa idea che lui è un po' più grande, lui è veramente la persona che controlla questa ragazza. Decide come deve vestirsi, decide come deve comportarsi, decide a che ora deve uscire, con chi deve uscire, che cosa deve fare. Una situazione che purtroppo in fondi di caffè conosciamo bene. Raccontiamo spesso cose simili, ma a differenza di tantissimi casi, Mick non ha paura di nascondersi. O meglio, lui non è che cerca di farle del male in privato. No, è tranquillo. Davanti ai suoi amici, davanti a persone in mezzo alla strada, lui picchia questa ragazza, le fa del male. Più e più volte ha dei lividi, ha dei morsi, ha i zigomi fratturati, ha praticamente labbra che sono state picchiate, piene di lividi, occhi neri. Addirittura una volta, in pochissimo tempo, ricordiamoci che questa loro relazione all'inizio stava durando solo per qualche mese e lui già faceva l'inverosimile, aveva utilizzato un martello, perdonatemi, per farle del male e gli aveva fratturato le ginocchia. E siamo solo ai primi mesi. Un evento molto particolare che poi Kim andrà a raccontare è questa volta quando loro sono in un pub, un pub inglese, e stanno giocando a biliardino, lui e i suoi amici. Mick decide che è arrivato il momento per Kim per partecipare a questo gioco. Lei è una ragazza, lei non gli interessano questi giochi un po' da maschietti, non vuole stare con loro, vuole stare con le sue amiche. Mick la guarda, si ambicina e gli dice se non vieni immediatamente faccio una scenata, ti picchio davanti a tutti. Lei credeva di essere protetta, d'altronde è davanti a tantissime persone, in un pubblico enorme, basto, siamo in un pub inglese, in un weekend, un sabato. Lei dice di no, lei dice no, non voglio giocare e lui prende il gessetto, quello che serve per pulire le pole, quindi avete presente quello che puliscono la parte davanti prima di giocare a biliardino, glielo lancia in faccia, gli urla dietro e le dà uno schiaffo davanti a tutti. E immaginate che cosa la gente a guardare questa situazione ha deciso di fare. Nulla, assolutamente nulla. I suoi amici, chiamiamoli amici con tanto di virgolette, preferivano tacere perché avevano paura di lui, quindi lui era libero, Mick era libero di fare quello che voleva perché nessuno avrebbe parlato, nessuno si osava a dire che cosa stai facendo, fermati. Per darvi un'idea cronologica, siamo adesso nel 1978. Mick e Kim si frequentano da due anni. In questi due anni vi posso solo far immaginare quello che questa povera ragazza ha subito. Vorrei anche ricordarvi che all'inizio aveva 15 anni, ma adesso che ne ha 17 è stanca, non ce la fa più e posso assolutamente capirla e non biasimarla per niente. Infatti che cosa decide di fare? Vuole smettere di frequentare Mick. Ritorna a casa dei suoi, si chiude in casa e dice io non voglio mai più vederti. Naturalmente, secondo voi, una persona come Mick, una persona malata di testa, una persona che ha la rabbia facile, si arrende così? Assolutamente no. Decide che vuole vendicarsi perché d'altronde come ha osato Kim lasciarlo. Aspetta una sera dopo la mezzanotte per entrare in casa di questa ragazza, lei che viveva con la madre e il padre. Quella sera in particolare il padre era fuori al lavoro e quindi in casa c'era solo Kim e sua madre. Dobbiamo sapere che lui entra dentro casa, si forza all'interno, quindi già lì iniziamo malissimo e va in salotto. Si siede, si rilassa, inizia un po' a pensare a come vendicarsi perché ad altronde lui non è che ha un piano vero e proprio. E dopo un po' di tempo inizia ad arrabbiarsi, inizia proprio a sentirsi il sangue che ribolle dentro di sé, va in cucina, prende un coltello e va in camera di Kim. La ragazza si sveglierà nel panico, nella paura, nel dolore perché quest'uomo, che ancora una volta uomo forse è un parolone, che in questo momento ha solo 21-22 anni, la sta accoltellando. Naturalmente questo rumore fa svegliare la madre che subito si precipita in camera della ragazza e lei stessa viene attaccata. In questo periodo, in questo lasso di neanche 5 minuti, Kim riceverà più di 27 coltellate, mentre la madre colpita ripetutamente, soprattutto alle spalle, 11 coltellate. Quest'azione è stata talmente tanto veloce e tanto dolorosa, ma ha comunque riscontrato abbastanza rumore, che i vicini di casa se ne sono subito accorti. Qualcosa non stava andando per il verso giusto, infatti hanno fortunatamente subito chiamato la polizia. La polizia si presenta immediatamente in casa e quando entrano vedono Mick tranquillo, che è vicino le scale, vicino l'ingresso, ancora con il coltello in mano sanguinante e l'unica cosa che gli viene da dire, sorridendo, perché ha riportato che lui sorride, quasi se la ride tra sé e sedice, è inutile che perdete tempo, non c'è niente da fare, non ce la faranno mai. Fortunatamente i paramedici e i medici decisono di intervenire e grazie a Dio ambe due sono riuscite a sopravvivere. Era in casi veramente molto molto gravi Kim dopo 27 coltellate, ma ce l'ha fatta dopo quattro giorni di terapia intensiva, la ragazza è riuscita a sopravvivere, quindi questa è forse una delle white lining, si dice in inglese, quando c'è veramente quella piccola cosa che ti fa un attimo respirare, che dice ok, almeno qualcosa di piccolo e positivo esiste, ma che cosa succede? Viene subito arrestato naturalmente, perché si vede è il colpevole, ha ammesso anche di essere il colpevole, perché d'altrove chi poteva essere a fare una cosa del genere, quando lui è presente nella scena del crimine ancora con il coltello in mano, viene arrestato per attentato omicidio, il fatto che lui è entrato in casa, il fatto che lui ha quasi ucciso una donna, anzi due dovrei dire, secondo voi quanti anni gli sono stati dati? Sembra una barzelletta, ma il giudice all'epoca decise per sette anni, sette, dopo tutto quello che aveva fatto, dopo tutto quello che aveva fatto solo sette anni, e ancora che fa più ridere, perché veramente non saprei che altro dire, quest'uomo ne ha passati solo tre e mezzo in carcere, poi è uscito, l'hanno fatto uscire senza problemi dopo tre anni e mezzo, e di solito la storia potrebbe finire qui, perché abbiamo già un'arcata allucinante, ma se vi dicessi che questo non è manco l'inizio, perché lui deve ancora diventare padre, per essere appunto rominato il peggior padre d'Inghilterra, e siamo già a questi livelli. Passati questi tre anni e mezzo in carcere, l'uomo come vi dicevo esce, ha ormai 26 anni, e Mick incontra da lì a poco la sua prima moglie, Pamela. Una donna che come sfortunatamente tutte le altre subisce la stessa identica cosa, viene picchiata, viene violentata, a livello fisico e a livello mentale. Saranno insieme per dieci anni e insieme avranno tre figli, ma fortunatamente, e ancora una volta è quella medaglia che non sai se è veramente fortuna, oppure è ancora peggio della sfortuna, perché è Mick stesso che decide di lasciare Pamela. Lui dice proprio, basta, mi sono stancato, sei libera, te ne puoi andare, è lui che proprio non ce la fa più. Ma secondo voi per quale motivo? Perché aveva appena conosciuto la sua prossima vittima. E questa è quando la cosa inizia a essere un po' più preoccupante, perché infatti lui in questo momento, che ha 37 anni, era diventato un vero e proprio predatore, perché andrà a conoscere Heather, questa ragazza di 14 anni, dove la conoscerà, lui amava andare a pesca, andava andare a pesca, andava in questo lago molto segreto, un posticino un po' più tranquillo, e Heather andava là con i suoi amichetti, andava là con i suoi amici di scuola, bevevano, fumavano, facevano un po' le loro cosette, cose che i 14 anni purtroppo fanno senza pensarci più di tanto, ma naturalmente i 14 anni i fondi non ce li hanno, i soldini non ce li hanno, e lui appunto, Mick, un po' di soldini li tiene, e quindi che cosa fa? Si avvicina a questo gruppetto, con l'intenzione appunto di diventare amico di Heather, e piano piano è lui a comprargli le sigarette, è lui a comprargli le birre, e il suo modo di fare diventa quasi da il loro amicone, l'amico grande, no, che va a pesca, gli fa questi doni, ti inizia quasi quasi a spingere questa idea, questa povera ragazza, che è lei a dovergli qualcosa, lei è l'agnello da sacrificare per il gruppo, perché infatti lui inizia a chiederle di uscire da solo, lui fa ma perché ogni tanto non viene a trovarmi, mentre sto qui a fare pesca, dai siamo solo io e te, beviamo qualcosa, fumiamo qualche sigaretta, apparentemente questo uomo era talmente tanto bravo a manipolare, che aveva convinto Heather, l'aveva quasi fatta sentire in colpa, e lei aveva accettato. In uno dei primissimi incontri in solitudine tra Mick e Heather, lei quattordicenne, ancora pura, ancora vergine, è costretta da quest'uomo a entrare nella sua tenda, e da lì sapete esattamente che cosa sia successo. Da lì a poco i due inizieranno una relazione, e ancora una volta, da qualche giorno che si vedevano, iniziano a passare le settimane, iniziano a passare i mesi, e passano gli anni ancora una volta, e appena la ragazza ha 16-17 anni, va a vivere con Mick. Ricordatevi che lei aveva 14 anni, ma perché aspettare i 16-17 anni, come vi ho spiegato nella storia precedente, l'età del consenso qui in Inghilterra era, e rimane ancora, 16 anni. Quindi, purtroppo, i genitori non possono fare più di tanto. Anche se ho i miei pensieri, ma ve ne parlerò più avanti durante la storia, appunto, perché certe cose non mi tornano. Però che cosa c'è da sapere? Che questa ragazza, che va a vivere a casa di Mick, che ha solo 16-17 anni, da lì a poco rimane incinta. Rimane incinta di quest'uomo, e viene obbligata, non solo a continuare la gravidanza, a trovarsi un lavoro, quindi a abbandonare la scuola. Quando torna a casa, lei deve pulire, deve cucinare, deve prendersi cura di lui, perché lui non vuole lavorare. Lui non ha intenzionato, lui per tutta questa arcata di tempo, sarà e rimarrà disoccupato. Per tutto il resto della sua vita, lui non vuole lavorare, a lui gli piace stare a casa, si guarda la televisione, esce fuori con i suoi amici, si beve quella birretta nel pub, tanto le sue donne, e le donne future che avrà, sono quelle che devono lavorare. Lui non vuole fare niente. La cosa che più mi rabbrividisce, ma da un certo punto di vista, conoscendo già un pochettino il soggetto, non mi stupisce, è che lui comunque, durante quest'arco di tempo, in cui la donna era incinta, lui voleva favori sessuali, lui voleva che lei fosse donna per lui, naturalmente. Una volta lei si era rifiutata, intorno ai 7-8 mesi di gravidanza, lei ha detto, sono troppo stanca, non ho voglia, lasciamo perdere. Lui l'aveva obbligata, e gli aveva puntato un coltello alla gola, mentre appunto faceva quest'atto. Le ha detto, stati fermo, io devo fare quello che devo fare, sono Mick, sono l'uomo di casa, e io ho questa voglia. Lo schifo di certe persone, purtroppo non ci stupirà mai. Questa relazione tra Mick e Heather durerà qualche anno in più, infatti lei porterà alla luce non solo un figlio, ma addirittura due, con quest'uomo, ma a un certo punto, non ce la fa più. Lei decide di scappare di casa, perché che cosa succede? Quest'uomo che stava diventando sempre più violento nei suoi confronti, aveva insegnato ai figli a non solo essere spettatori di questa violenza, a incitare la violenza del padre, perché infatti lui voleva appunto che i bambini partecipassero a queste sue azioni, ma certe volte teneva la madre ferma a terra mentre obbligava e chiedeva a questi bambini che avranno avuto 3, 4, 5 anni di calciare la madre, di tirare pugni alla madre e di chiamarla con parole che un bambino di quell'età non dovrebbe assolutamente sapere e conoscere. E a quel punto, per l'amore dei figli, secondo me è dove Heather è riuscita a trovare un pizzico di forza e un giorno è scappata di casa. Si è presa i figli ed è andata a casa dei genitori. Ha chiesto aiuto ai genitori, ha detto datemi una mano, devo scappare da quest'uomo. I genitori erano felicissimi di riaverla in casa, l'hanno accolta a braccia aperte e la sua vita è riuscita a ricominciare. Ma ancora una volta, perché Mick ha lasciato questa donna? Perché aveva già un'altra vittima. Lui ancora una volta si era stufato di Heather ed era pronto a fare del suo peggio, questa volta non con una donna, ma addirittura con due. Lui adesso aveva deciso che una non era abbastanza, voleva una specie di harem. Ed è infatti all'inizio dell'anno 2000 che adesso Mick, 44 anni, conosce Merid. Merid che ne ha 19. Lui la vuole salvare. Ebbene sì, ebbene sì, lui è un salvatore, perché questa donna stava scappando già dal suo ex compagno con suo figlio. Era una giovanissima ragazza madre. Lui le aveva promesso casa, vitto, alloggio, le aveva promesso che si sarebbe preso cura di lei. Naturalmente era un ottimo aggancio per lui, un ottimo cappio da tenere queste ragazze. Lei ci aveva creduto, era andata a vivere a casa sua, e da lì a poco le cose erano cambiate. La picchiava, le faceva del male, abusava, e ancora una volta un'altra donna rimane incinta. Però lui non si ferma. Come vi dicevo, lui adesso ha questa voglia un po' di harem, una donna non è abbastanza per lui, e quindi decide di iniziare a frequentarsi con Lisa. Lisa ha solo 16 anni, lui ne ha 44. Questa ragazza ha esattamente quasi la stessa situazione di Mary Read, perché infatti anche lei ha già un figlio, è una giovanissima ragazza madre, e lui le promette che la salverà. Lui le promette che sarà il suo grandissimo salvatore. Mary Read però sapeva di questa cosa, e Lisa sapeva di Mary Read. Infatti lui che cosa fa? In poco tempo, dopo aver conosciuto Lisa, le chiede di andare a vivere insieme a lui e alla sua compagna. I due adesso sono in tre adulti e i due figli, uno di appunto ciascuno delle donne. In meno di qualche mese pure Lisa rimane incinta. Quindi adesso abbiamo ambedue le sue compagne che sono incinte. Che cosa succede però? Lui vuole assicurarsi che almeno una di queste due non scappi. Infatti chiede a Mary Read, che appunto lei a questo, a 19, quasi 20 anni, è legalmente possibile per lei sposarlo. Lisa ne ha solo 16. La beffa è che Lisa era la damicella d'onore al loro matrimonio. Cioè voi vi immaginate questa scena? Io mi immagino la famiglia di Mary Read, la famiglia di Make, che comunque anche se non era presente più di tanto, sono sicuro che qualcuno, qualche cugino, qualche zio sarà andato appunto a questo matrimonio e avrà visto lui sposarsi con una donna e avere la compagna accanto sedicenne incinta che faceva la damicella d'onore. Io non ho nulla contro le relazioni poliamorose, cioè per me ognuno è libero di fare ciò che vuole quando le persone in gioco in una relazione, quando le persone sanno esattamente quello che sta succedendo sono tutte e tre dell'età maggiore di 18 anni, non quando abbiamo un 44enne, una ventenne e una sedicenne. Lì è dove ho un pochettino di problemi a farmela piacere questa cosa. Vorrei dirvi che gli anni passano e Married avrà cinque figli da quest'uomo. Lisa ne avrà quattro. Quindi, se facciamo un attimo i calcoli, in questa casetta di quest'uomo, una casa di tre camere da letto, abbiamo lui, la moglie, Married, che lei ha cinque figli con lui, quindi cinque figli con lui più il suo. Poi abbiamo Lisa che ha quattro figli con lui più il suo. Cioè, in quella casa sono in quattordici. In quattordici di loro tutti i figli sono minorenni e abbiamo tre adulti. E adesso inizierete a chiedermi ma perché va tutti questi figli? Perché appunto lo Stato paga. Questa era la sua grande idea era di percepire lo stipendio di ambito e le sue compagne che andavano al lavoro mentre lui ancora una volta stava a casa non se ne fotteva proprio percepire il loro stipendio ma anche il mantenimento di undici minori undici figli. È estimato che lui in quegli anni ha percepito annualmente intorno ai trentamila euro. Trentamila euro di mantenimento per i figli togliendo comunque già tutti i buoni pasto togliendo aiuti che comunque la scuola dava ma di soldi veri soldi che gli entravano a lui nelle sue tasche trentamila euro e le condizioni di questa casa il modo in cui questi figli vivevano sono sicuro che voi sapete già non vivevano nel lusso non vivevano manco nel nel limite della decenza vivevano nello squallore una cosa che rende ancora più lo schifo l'uomo nel giardino di casa aveva un campervan quelli che di solito si attaccano alla macchina e servono per fare le vacanze che lui non utilizzava per andare a portare gli undici figli o le compagnie in vacanza no quello era dove lui portava una delle sue donne Lisa o Marie e le obbligava ad avere rapporti con lui addirittura lui voleva rapporti non solo tutti i giorni ma cinque volte al giorno che a parte non so quest'uomo di 44 anni dove fisicamente prendesse le forze per farlo effettivamente cinque volte al giorno 365 giorni l'anno ma ci rendiamo conto di che schiavitù stiamo parlando cioè secondo me è è oltre i limiti è oltre i limiti proprio cioè io non la capisco questa cosa non mi fa paura prima di parlarvi della notte del maggio del 2012 però voglio un attimo esplorare con voi un'altra parte di Mick che è il suo narcisismo il suo egocentrismo quest'uomo che veramente credeva che era invincibile e che qualsiasi cosa lui dicesse era oro colato da quello che sappiamo in questa casa come vi dicevo ci sono 14 persone 14 teste e ci sono solo 3 camere da letto lui che cosa decide di fare di andare in comune e domandare per una casa più grande perché quella appunto dove lui viveva con le sue compagne e questi 11 bambini era una casa popolare in quel momento però non c'erano case più grandi di solito non ci sono famiglie così ampie e non c'era la possibilità la disponibilità per dargli appunto una casa lui che cosa decide di fare lui si sente che no non gli va bene questa cosa vuole l'aiuto e vuole l'aiuto televisivo ebbene sì riesce ad andare in televisione molteplici volte e a portare questa idea di questo samaritano che appunto ha aiutato le sue compagne nel momento del bisogno adesso avevano una famiglia così grande e avevano bisogno di soldini avevano bisogno di un'entrata non gli è andata tanto bene sinceramente anche perché i programmi televisivi che ha scelto non sono i programmi televisivi migliori del mondo uno sinceramente e questa è una piccola storia una piccola parentesi è un programma televisivo che fortunatamente hanno smesso di mandare in onda qualche anno fa perché ci sono stati tantissimi problemi e addirittura una storia ha incitato il bullismo e al suicidio di una persona ed è tra virgolette per colpa di quello che è successo che hanno smesso questo programma televisivo ma se alcuni di voi sanno è Jeremy Kyle Jeremy Kyle è praticamente la tv più spazzatura che potevi trovare in televisione ma quando dico spazzatura siamo a dei livelli che veramente c'è manco il grande fratello il grande fratello potrebbe essere un potrebbe essere all'Oscar o un premio Nobel in comparison non mi viene in italiano come si dice in confronto eccomi scusatemi a Jeremy Kyle perché ogni volta entravano queste persone che potevi tranquillamente notare subito che erano dei veri e propri disagi erano delle persone che avevano tanti problemi e che avevano bisogno effettivamente d'aiuto ma l'intenzione del programma non era quella di aiutare ma era proprio quella di deridere queste persone c'erano sempre questi live detector test i test della verità c'erano sempre questi test di paternità c'erano tantissime volte questi intrighi questi inciuci cioè vi giuro il livello talmente tanto terribile di questa televisione di questo programma di preciso era forse una gemma talmente tanto rara che sono contento che sia sparita però tanto per dirvi cosa è successo Mike che appunto adorava questa sua fama non si aspettava che appunto in questo programma televisivo venisse deriso perché infatti Jeremy Kyle la persona che conduceva questo programma gli aveva riso in faccia gli aveva dato della persona che era un braccino corto e che utilizzava le mogli per ricevere denaro e utilizzava i figli per ricevere denaro alla fine ci aveva pure visto lungo sapeva esattamente che cosa stesse succedendo ma a quest'uomo questa cosa non gli andava bene però aveva continuato questa sua fama televisiva partecipando anche a altri programmi perché appunto era quasi diventato un pochettino famosino era un po' conosciuto non vorrei dire influencer perché sinceramente fortunatamente non lo era però se fosse stato in questo momento non mi sarebbe cioè non sarei rimasto sconvolto se avesse pubblicizzato qualche cosa terribile spacciandolo perché qualche pilola di dimagrimento o qualcosa del genere comunque non voglio perdermi in questa storia però la cosa che vorrei precisare è che lui era talmente tanto narcisista e talmente tanto egocentrico che anche il fatto che tutti gli ridevano dietro e tutti gli davano della persona terribile del fatto che lui non lavorasse che lui non interessasse lavorare a lui non gliene fregava niente il fatto che lui continuava a fare queste apparizioni televisive voleva dire che aveva soldini che gli entravano soldi in casa e quindi finché la barca va lui la lasciava proprio andare che cosa però succede nel 2012 è finalmente quando Lisa decide di scappare di casa lei prende i cinque figli finge di dover andare swimming di doverli portare a nuoto e non si presenta più a casa lei sparisce si rifugia dai suoi genitori e dice all'uomo che non vuole più parlare con lei che lei vuole vivere la sua vita e che non gli vuole far vedere più i figli lui naturalmente la minaccia la minaccia per telefono lui dice che se non va immediatamente a casa sua che non ritorna a casa che non gli riporta ai figli come se fosse un grande padre ci saranno delle conseguenze lei chiama subito la polizia e da lì a poco parte subito un un caso in corte dove appunto lui richiederà la custodia però la cosa che succede è che lui deve trovare qualcosa contro Lisa lui deve trovare quell'idea o quella come si dice quella situazione in cui il giudice dirà oh no Lisa è una madre terribile diamola a quest'uomo che non ha assolutamente nulla di terribile cioè è un santo non dimentichiamoci quello che ha fatto a Kim quando aveva malapena vent'anni non dimentichiamoci tutto ciò continuiamo a dargliela a lui sti bambini questi creaturi ecco lui che cosa decide di fare e qui è dove le cose iniziano veramente a prendere un piede molto molto strano con la sua moglie Maydeen e con un suo amico che appare dal nulla che si chiama Paul prendono questo questa idea decidono appunto in questo maggio del 2012 quindi a pochi mesi da quando Lisa è andata via che devono trovare un piano vogliono incastrare Lisa che cosa decidono di fare naturalmente Mecca tutto sotto controllo lui dice dobbiamo fare questo questo e quello però prima facciamo un po' di festa si ubriacano mettono i sei figli che aveva avuto cinque con Maydine una che già lei appunto aveva li mandano a letto andate su andate a dormire loro stanno nei piani bassi che si ubriacano fanno baldoria e decidono di fare una cosa a tre fanno la loro cosa a tre si divertono stanno proprio tutti nell'estasi tutti nella gloria finché alle tre e mezza di notte Mick dice fermi tutti è arrivato il momento che cos'era questo piano incredibile di quest'uomo? di utilizzare della benzina e di dar fuoco alla casa di dar fuoco alla casa mentre questi sei bambini erano all'interno la sua idea era quella di poi vendere alla polizia vendere poi in corte la 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 il fatto che comunque perdonatemi questa cosa l'avesse fatta Lisa questo atto questo rivincita questa vendetta l'avrebbe fatta Lisa quindi lui che cosa fa? esce fuori di casa Paul se ne va per i fatti suoi dopo avergli dato una mano a cospargere di benzina la casa e gli dà fuoco lui è fuori con Maidin che guardano la casa bruciare dopo qualche minuto Maidin chiama la polizia urlando dicendo oddio la casa in fuoco la casa in fuoco venite a salvarmi ho i miei figli dentro tutto quanto naturalmente potete immaginare perché comunque con la benzina cosa del genere il fumo è parecchio nero è abbastanza intenso tutti i vicini di casa si sono svegliati tutti i vicini di casa sentono proprio queste urla queste fiamme e che cosa appunto parte? dei vicini di casa che erano appunto questi due fratelli decidono di cercare di entrare dentro la casa perché scoprono tra le urla della madre e Mick che era praticamente così che si guardava i fatti suoi che sei dei figli erano ancora all'interno dalla porta d'entrata non si poteva entrare c'erano fiamme ovunque decidero di andare nella parte dietro di casa dove trovano molto particolare il fatto che ci sia una scala attaccata al muro accanto a una finestra e che questa finestra fosse stata rotta il vetro di questa finestra era rotto come mai? questi due ragazzi avevano provato di tutto addirittura anche a entrare da quella finestra ma il fumo era davvero tanto tanto forte che gli mancava addirittura il respiro e queste fiamme ormai avevano preso il sopravvento in casa nel frattempo Mick era ancora giù che osservava non lo so cioè io non sono un padre ma se questo mai dovesse succedere ai miei figli penso anche al mio pesciolino rosso cioè io cercherò l'impossibile per entrare dentro casa e salvare questi poveri bambini cioè non sono manco i miei figli e credo che se fosse successo ai miei vicini di casa sarei andato e avrei provato l'inverosibile come questi ragazzi ma Mick no Mick sta là che li guarda aspetterà infatti che i vigili del fuoco arrivino prima di fingere qualcosa prima di fingere un certo interesse ma purtroppo vi devo dire che di questi di questi sei bambini di questi sei ragazzi i cinque più giovani persero subito la vita persero subito la vita il fumara talmente tanto forte che era entrato nei loro polmoni ed erano praticamente morti asfissiati Dwayne che era il figlio più grande che aveva solo 13 anni era riuscito a rimanere in vita ma purtroppo solo tre giorni dopo in ospedale era purtroppo un caso perso non ce la potevano fare il danno che aveva ricevuto ai polmoni era talmente tanto che era irreversibile e purtroppo anche Dwayne a 13 anni solo aveva perso la sua vita quindi abbiamo dal più piccolo di 5 anni fino ai 13 che non ce l'avevano fatta 6 anime innocenti perse perché l'idea di quest'uomo era quella di incastrare Lisa come la persona che aveva iniziato appunto queste fiamme perché la scala e la finestra vi spiego subito perché poi venne fuori più avanti l'idea di Mick era quella di ancora una volta prendere le redini e diventare l'eroe il salvatore infatti lui aveva rotto la finestra dall'interno e aveva già messo la scala perché voleva appunto subito da dietro andare su salire salvare i figli e pace fatta l'unico problema è che essendo che le fiamme si erano accese e si erano distribuite per casa avevano preso il sovrabbento troppo velocemente gli era impossibile entrare in più tra i vicini la confusione che si era fatta non era riuscito a capire un altro modo per entrare dentro e cercare di salvare qualcuno che aveva proprio abbandonato la situazione ma ha detto vabbè non c'è niente che posso fare addirittura ha riportato che quando l'ambulanza era venuta e stavano portando Dwayne il figlio tredicenne appunto in ospedale lui manco ci voleva andare cioè lui non era manco interessato a fingere davanti alle persone che che c'era uno dei figli anche se non era quello biologico però neanche l'interesse di dire vado e accompagno mia moglie all'ospedale cioè veramente uno schifo allucinante una cosa però importante da sapere è che questa storia fece subito divenne un caso nazionale in tv non si parlava d'altro e indovinate d'altronde la buonanima di tante persone persone che guardano la televisione vogliono aiutare la famiglia vogliono supportare la famiglia e quindi da lì a poco quest'uomo aveva iniziato a ricevere donazioni donazioni di persone che volevano semplicemente supportarlo e supportare questa famiglia e secondo voi questa è la primissima settimana Mac e sua moglie avevano addirittura provato a fingere dello sconforto no assolutamente no i due erano stati visti fare shopping andare ai pub bere fare addirittura karaoke andare a fare karaoke la stessa settimana dove hai perso i figli cioè io posso non posso capire ma da una parte posso dire ok Nick è completamente malato e ha dei problemi più grandi di questa casa ma la moglie una donna che ha portato dentro di sé sei figli e li ha appena persi in un incidente che ha iniziato lei come fa a fare shopping come fa ad uscire come fa a figuro a non morire dentro cioè una madre avrebbe il cuore talmente tanto distrutto che non ci sarebbe manco bisogno di toccarla di guardarla che sarebbe proprio morta spenta così questa invece va a fare karaoke va a fare shopping va a utilizzare i soldi che le persone gli stavano dando per supporto per comprarsi un paio di scarpe per il povero Mick e la sua compagna però le donazioni stavano un pochettino scarseggiando perché infatti erano passati dei giorni in tv non si parlava più soltanto di questo caso ma c'erano altre cose che erano appunto capitate e quindi questi soldini non stavano più entrando e il nostro carissimo amico Mick decide di chiedere alla polizia di fare una conferenza una conferenza pubblica una conferenza stampa addirittura una conferenza broadcast quindi proprio live in televisione quando lui arriva in questa conferenza ha un atteggiamento strano lui addirittura entra un po' salterellando si è vestito tutto bene sorride scherza si comporta quasi come se fosse una celebrità infatti stringe la mano va là firma autografi addirittura quando stanno per iniziare questo questo broadcasting questa conferenza lui dice ok let's do this cioè nel senso tradotto vuol dire va bene andiamo facciamo spacchiamo ci rendiamo conto quando poi naturalmente le telecamere si sono accese non è più backstage lacrime di croccodrillo cioè lui proprio si vede che forza questo questo fazzoletto che un altro po' vi giuro era asciutto all'inizio è finito asciutto alla fine non è scesa una lacrima una lacrima non riusciva proprio non ce le aveva proprio queste lacrime la moglie accanto a lui però testa bassa testa bassa non ha alzato la testa per tutta la conferenza addirittura non ha manco detto una parola la cosa però che naturalmente ha fatto ancora di più in sospettire la polizia che a quel punto già aveva storto sicuramente un po' il naso lui in tutto questo public speaking quindi in tutte queste sue parole c'erano solo ringraziamenti lui aveva ringraziato la polizia aveva ringraziato i medici i paramedici gli infermieri le persone che gli stavano accanto aveva ringraziato il pubblico e le donazioni ma mai una volta aveva detto dobbiamo trovare chi ha dato fuoco a casa mia mai una volta lui ha chiesto la giustizia lui non era proprio interessato alla giustizia manco manco mezza parola lui era solo ringraziamenti ed era tutto grazie a voi noi stiamo ancora andando avanti mi raccomando mandateci qualcosa di soldi cioè questo era solo il suo intento ed è infatti dopo questa conferenza che lui farà che la polizia decide di investigare un pochettino l'uomo vuole un po' capire dei ritroscena ed è lì che scoprono che lui era già stato in carcere lui aveva già commesso una specie di omicidio cioè aveva almeno provato con Kim con la sua prima compagna e quindi avevano detto aspetta un attimo ma questa cosa come mai non la sapevamo ed è qui che come vi dicevo all'inizio le cose non mi tornano come faceva quest'uomo andare in televisione come faceva essere passatemi la parola quasi un piccolo personaggio pubblico e mai una volta una persona del casting televisivo ha detto ma aspettate un attimo ma a chi stiamo dando la possibilità a chi stiamo dando questo palcoscenico a un uomo che ha picchiato e ha quasi ucciso due donne ma stiamo veramente facendo sul serio cioè non capisco lui come abbia come si è riuscito a nascondere il suo passato cioè vi giuro è come se tutti quelli che stavano attorno a lui avessero proprio le mortadelle davanti agli occhi manco i paraocchi proprio i mortadelloni perché è impressionante non riesco assolutamente a capire questa cosa cosa però decide di fare la polizia decide di appunto mettere delle cimici quindi questi piccoli microfoni per riuscire ad ascoltare le conversazioni nella camera d'hotel dove lui e appunto sua moglie erano e indovinate un po' non ci è voluto tanto tempo che pure Paul quest'uomo è venuto a trovarlo è andato a trovarli e quando è lì loro decidono di chiacchierare un pochettino del più e del meno di fare le loro sporcherie e poi di cercare un alibi devono riuscire tutti e tre adesso a dire la stessa storia ed è appunto in questi questi recording in queste voci in questi in questi file salvati dove si sente che tutti e tre hanno commesso questa cosa che sono stati loro e adesso stanno cercando di coprire la verità in pochissimo tempo la polizia che era già lì che li stava ascoltando si presenta alla porta entra dentro li arresta tutti e tre e tutti e tre subito si dichiarano non colpevoli la prima cosa che dicono è noi non abbiamo fatto niente il processo iniziò nel febbraio del 2013 e in corte si presentò appunto testimoniare contro l'uomo sia Lisa la ragazza appunto che era scappata da casa con i cinque figli ma anche Heather che se vi ricordate era la ragazzina quella che a 14 anni l'aveva incontrata ed era stata abusata da quest'uomo avevano raccontato esattamente che cosa lui faceva qual era il suo modo di appunto operare verso queste ragazze e non c'era molto da fare avevano non solo un pochettino un inside quindi un pochettino una conoscenza del suo modo di fare ma appunto anche con la sua voce con queste cimici con tutti i recording che lui appunto diceva che era stato lui a dare fuoco alla casa che tutti e tre Made in Paul e appunto Mick erano stati accusati con omicidio colposo la ragione per la quale non era omicidio tra virgolette di primo grado ma colposo era perché la loro intenzione era sempre quella di salvare i sei bambini anche se effettivamente non ci avevano manco provato ma purtroppo la cosa che mi rimane più amara è che Paul e Made in furono arrestati e furono condannati a 17 anni mentre Mick fu gli fu dato l'ergastolo ma con un minimo di 15 anni e se le cose non fossero già uno schifo abbastanza fuori per quelle strade attualmente sia Made in che Paul sono liberi non sono più in carcere è da qualche anno che ormai svolazzano e girazzano in giro facendo chissà che cosa e non abbiamo più notizie di loro ma l'ultima cosa che sono riuscito a trovare è che non sono più in carcere e questa è la storia del padre peggiore d'Inghilterra spero di non trovare mai una storia orribile come questa spero di non trovare mai nessuno che sia talmente tanto disgustoso ma purtroppo sappiamo che là fuori ci sono mostri là fuori ci sono cose là fuori ci sono persone che farebbero di tutto e di più e purtroppo sappiamo benissimo che MEC non sarà l'ultima storia di cui avremo la possibilità di parlare e la possibilità di scoprire che al mondo purtroppo c'è ancora troppo troppo male quindi io vi ringrazio vi ringrazio per avermi ascoltato come sempre la rubrica Fondi di Caffè nasce con voi la rubrica continua grazie a voi quindi volevo assolutamente ringraziarvi per tutto quello che state facendo finalmente siamo ritornati finalmente ogni altra settimana abbiamo un video e sono molto felice che tantissimi di voi sono ancora qui con me a ascoltare le storie perché come dico sempre Fondi di Caffè la ragione per la quale condivido queste storie con voi è perché non dobbiamo dimenticare le vittime ma dobbiamo anche educarci dobbiamo chiedere aiuto e dobbiamo cercare di migliorare noi stessi e questa società vi ricordo ancora una volta che giù in description trovate non solo numeri verdi dove potete chiamare se avete bisogno di qualsiasi cosa di conforto se avete bisogno di parlare con qualcuno se volete denunciare qualcosa che sta succedendo a voi o a qualcuno chiamato o anche a un conoscente in altre giù in description c'è anche il resto della playlist con altre storie di Fondi di Caffè ma io vi ringrazio e come dico sempre always remember like if you like hate if you hate and until next time grazie per avermi ascoltato grazie per avermi ascoltato